Panico a Toronto in Canada dove verso le 13.30 ora locale un furgone è piombato su una decina di pedoni tra Yonge Street e Finch Avenue. La polizia ha fatto sapere che ci sono tra 8 e 10 persone ferite senza però specificare le loro condizioni. Il furgone si è poi dato alla fuga ma poco dopo le autorità hanno fatto sapere che il conducente è stato fermato. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto deliberato. Grazie.